Oggi nella seconda parte ha approfittato di qualche caduta di tensione del Bologna ha trovato questo gol con un po' di complicità e c'è questo Quintero che è un giocatore buonissimo Ci fa piacere vedere questo primo punto del Pescara in Serie A Non puoi prendere il gol da lì ragazzi, non puoi dire tutto però da lì non si può prendere il gol Allora salutiamo con soddisfazione, con piacere il primo punto del Pescara di Stroppa in Serie A Ha avvenuto in una situazione drammatica, praticamente in 10 con sostituito il portiere per cui il portiere entra a freddo, bravo Pellizzoli che parla a questo rigore tra l'altro calciato da una rigorista come Diamanti Un punto da come si erano messe le cose è quanto inaspettato però se lo meritava Stroppa per quello che aveva fatto Per incoraggiamento, sta cercando di cambiare moduli sta cercando sempre un modo nuovo per mettere la squadra in campo per dare delle possibilità a questa squadra Sampdoria, Marco Sampdoria Sampdoria